La Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal Santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Pace per la pace nel mondo. Cristo Gesù, Principe della Pace, illumini i reggitori dei popoli. Affinché custodiscano il grande tesoro della pace come primo bene da difendere e da garantire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e della concepì, concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore, si compia in me la Tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù che suda sangue nell'orto del Getsemani. Pater nostro qui è sinceri, Santificetur nome in Tum, adveni a Tregnium Tum, fiat volontas Tua, sicut in cielo e in terra. Pane nostro un quotidiano, da nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicur de nos dimitimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, se te libra la nostra mano, ame. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nuncetina, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nuncetina, Mortis, nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nuncetina, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. In Tamil, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Mudit, Etruvetchin, Ganiyai, Eesuvum, Asurvedik, Patavol, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Deetruvetchin, Ganiyai, Eesuvum, Asurvedik, Patavol, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Patavol, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Deetruvetchin, Ganiyai, Eesuvum, Asurvedik, Patavol, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Patavol, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Deetruvetchin, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Morate, Amin, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Deetruvetchin, Ganiyai, Eesuvum, Asurvedik, Patavol, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Morate, Amin, Arunirenda Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Prega per noi, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Santa Maria, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Morate, Amin, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Deetruvetchin, Ganiyai, Eesuvum, Asurvedik, Patavore, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Morate, Amin, Arunirenda Maria, Valka, Andavar, Mudane, Pengalukula, Asurvedik, Patavol, Nire, Deetruvetchin, Ganiyai, Eesuvum, Asurvedik, Patavore, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Morate, Amin, Arunirenda Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso, Nell'Ora, Della Nostra, Morate, Amin, Gloria al Padre, E al Figlio, E allo Spirito Santo, Come era nel principio, E ora è sempre, Nei secoli, Dei secoli, Amin, L'ho dato sempre sia, Il Santissimo Dome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù carico del pesante legno della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della Pace, Prega per noi, Prega per noi, Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Prega per noi, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi, Peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero del dolore contempliamo, Gesù crocifisso muore in croce e ci dona Maria come Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. In tegrino. In tegrino. Salam, n'achio, Maria, m'saggaz, malaki, ziabhir, m'saghi, yu. In kavanistis, tebarakih, n'aykar, soffri, yassun, tebarakhi, yu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, n'achio, Maria, m'saggaz, malaki, ziabhir, m'saghi, yu. In kavanistis, tebarakih, n'aykar, soffri, yassun, tebarakhi, yu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, n'achio, Maria, m'saggaz, malaki, ziabhir, m'saghi, yu. In kavanistis, tebarakih, n'aykar, soffri, yassun, tebarakhi, yu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, n'achio, Maria, m'saggaz, malaki, ziabhir, m'saghi, yu. In kavanistis, tebarakih, n'aykar, soffri, yassun, tebarakhi, yu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, n'achio, Maria, m'saggaz, malaki, ziabhir, m'saghi, yassun, tebarakhi, yu. In kavanistis, tebarakih, n'aykar, soffri, yassun, tebarakhi, yu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, ad essere nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, n'achio, Maria, m'saggaz, malaki, ziabhir, m'saghi, yassun, tebarakhi, yassun, tebarakhi, yassun, tebarakhi, yu. In kavanistis, tebarakhi, yassun, 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 tebarakhi, yassun Nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, nal'ache o'ma riam, saggaz, malaki, ziab, herm, saki, io. Ncav'anestez, tabarake, chine, car sovri, assun, tabarake, io. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Salam, nal'ache o'ma riam, saggaz, malaki, ziab, herm, saki, io. Ncav'anestez, tabarake, chine, car sovri, assun, tabarake, io. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterno. Prego per noi. Prego per noi. Prego per noi. Imora consacrata a Dio. Prego per noi. Rosa mestica. Prego per noi. Torre della Santa Città di Davide. Prego per noi. Fortezza inespugnabile. Prego per noi. Santuario della Divina Presenza. Prego per noi. Arca dell'Alleanza. Prego per noi. Porta del Cielo. Prego per noi. Stella del mattino. Prego per noi. Salute degli infermi. Prego per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi, Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo con la preghiera alla Vergine Immacolata nella Santa Casa, pagina 15. Vergine Immacolata, conviva piede pensiamo ai grandi misteri che si compirono in questa tua povera casa di Nazareth, sulla meno colle di Loreto, tra queste sacre mura, dove tu sei stata concepita senza peccato, e hai vissuto fanciulla nella preghiera e nell'amore più solile. L'Angelo ti salutò piena di grazia, tu gli hai risposto con le parole che aprirono i cieli, e ne fecero discendere il Salvatore del mondo, insieme a San Giuseppe, nella contemplazione del Verbo incarnato, nell'umiltà e nel lavoro, qui hai servito il Signore, preparando il tuo Spirito al grande sacrificio che hai offerto sul Calvario, per divenire la madre di tutti gli uomini, redenti dal sangue di Gesù. Fa, oh Maria, che dopo aver vissuto nelle nostre case, nella grazia del Signore, come tu hai fatto nella tua, lontani dal peccato, soggetti alla legge e alla volontà divina, possiamo divenire un giorno abitatori della casa di Dio, insieme a te, per l'eternità, così sia. Virgo lauretana, ora pronobis. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, donato, Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si raccomandano alle nostre preghiere, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Prendiamo grazie a Dio. Madre in cammino, sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. Ave fanciulla di Dio, splendida agli occhi del Padre. L'angelo annuncia il mistero. Doni alla terra il tuo sì. Madre in cammino, sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. Salve, regina del cielo, sei mediatrice di amore. Vita, dolcezza, speranza, mostraci il figlio tuo, Gesù. Madre in cammino, sei con noi, Maria. Dona beata, canta il mondo in te. Tu, pellegrina del tempo, Signori, splendida per via. Piena di Spirito Santo, veglia la Chiesa con te. Madre in cammino, sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.